Per quanto riguarda il ponte dell'Arzilla noi abbiamo chiesto un incontro veloce con il sindaco perché un imprenditore e chi fa, e io sono un'imprenditrice, sa benissimo che deve fare delle previsioni, quindi deve sapere se è possibile poi per la stagione balneare turistica potrà riaprire, potrà assumere del personale, potrà comprare dei prodotti. E questo non si può fare all'ultimo momento, quindi era un incontro da fare 3-4 mesi fa perché ricordiamo che il ponte è caduto l'anno scorso in agosto e non si può fare all'ultimo momento perché a un mese da Pasqua noi ancora non sappiamo se il ponte verrà riaperto. Adesso ci dicono che verrà fatta una conferenza stampa la prossima settimana, il 21, dove ci parleranno del ponte. Ricordo che tra un mese è Pasqua, gli operatori apriranno tutti per Pasqua e noi avremo il ponte che è inagibile perché come dichiarato il ponte verrà fatto a maggio. E io mi chiedo, potevamo magari incontrarci prima per capire, per rassicurare gli operatori? Questo sì, perché vi ribadisco che fare impresa al giorno d'oggi è difficilissimo. Già fare l'imprenditore vuol dire essere un eroe perché andare a aprire la mattina la serranda o aprire il bar o fare qualsiasi altro tipo di attività, questo è un momento molto difficile. E' proprio per questo che bisogna avere delle certezze e queste certezze ce le devono dare le amministrazioni. Quindi io, quando gli operatori vengono da me e mi chiedono come possiamo risolvere questo problema, io vado a chiedere a chi di dovere e ribadisco. Non sono qui a fare politica, ma solo e esclusivamente gli interessi degli operatori e degli imprenditori. Così come ho fatto per quanto riguarda il regolamento. Io mi sono adoperata per gli operatori, perché anche in quel caso tante attività rischiavano di chiudere e di non poter lavorare e mandare a casa della gente, perché qui si parla anche di lavoro. Quindi gente che comunque deve lavorare, famiglie che devono sopravvivere.